ciao ragazzi dal canale dm panni video vi auguro buon natale buon 2022 ciao ciao a tutti dal canale fed med 94 tantissimi auguri di buon natale di un felice sereno anno nuovo ciao amici e tanti auguri di buon natale e di felice anno nuovo dal canale lm modellismo militare che questo nuovo sia un anno pieno di modellismo e soprattutto di serenità buon natale ciao a tutti dal joker e tanti auguri di buon natale godam spero che tu mi stia guardando questo programma è dedicato a te il crimine non ha benace buon natale a tutti e sereno anno nuovo ciao a tutti ragazzi sono qui oggi in pigiamata per fare i più sentiti auguri di buon natale a tutti i nostri iscritti buona festa a tutti da summer gamer ai nostri iscritti saluto tutti ciao ciao sono andrea slx e voglio farvi tanti auguri di buon natale e vi auguro anche di iniziare e trascorrere l'anno nuovo nel migliore dei modi siate orgogliosi siate grati di voi stessi e dei vostri cari e di ciò che state facendo per voi e per loro sorridete e siate felici sempre grazie a tutti